Lo aveva detto il presidente Spina al termine della partita col Forlì ed ecco che in casa Samb arriva un altro pezzo da 90. Si tratta del centrocampista offensivo Giorgio Di Vicino, 30 anni e tante stagioni tra i professionisti. Nel suo curriculum campionati in Serie A, B e C, in squadre del calibro di Napoli, Bari, Piacenza e Lecce, Salernitana e Ternana, fino allo scorso anno quando ha vinto il campionato con la Sisco Roma. La società punta molto sulla porta del fantasista che a Riviera segnò anche un gol con la maglia della Salernitana. La sua marcatura, comunque più famosa, è quella segnata al Real Madrid in Spagna con la maglia del Napoli. A 30 anni Di Vicino ha scelto la Samb per un progetto a medio-lungo termine. Sono contento delle parole del presidente che poi abbia scelto me. Cerco di ripagare questa fiducia solo sul campo, c'ho solo da lavorare sul campo, da migliorare, è normale, mettermi a disposizione del mister. Sono un po' arrabbiato, diciamo così, calcisticamente arrabbiato, quindi vengo qui proprio per ripartire con tutta la cattiveria che serve. Ma oggi è anche il giorno in cui è arrivato il transfer dell'argentino Santiago Bianchi, che domenica a Fossombrone potrà dare una mano a Covelli in avanti, mentre Di Vicino non è ancora in condizione, ma certamente per lui un posto in panchina ci sarà. Ora la Samb, come ha affermato il presidente Sergio Spina, non ha più scusanti, deve solo vincere le partite e soprattutto questo campionato. E con l'ultimo acquisto ed il tesseramento di Bianchi, ora le condizioni ci sono tutte.